Buongiorno a tutti, sono Valentina Maggio, educatore ed istruttore cinofilo. Dirigo da quasi dieci anni il Centro Cinofilo Cinopolis, situato in provincia di Milano a Balbiano di Colturano. Mi occupo di educazione di base e di sport cinofili, ma faccio anche percorsi educativi per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni. Oggi vi voglio raccontare un bellissimo viaggio nel mondo del cane per farvi capire come nel corso degli anni si è diventato il miglior amico dell'uomo. Partiamo da questa bellissima citazione di un capolavoro della letteratura italiana dell'Odissea di Omero per evidenziare quale sia una delle caratteristiche principali del cane che è la fedeltà. Infatti in questo passo vediamo come il cane Argo sia l'unico che riconosca il suo padrone travestito da vagabondo, tornato in patria dopo la lunga stenza. Quindi in questo passo si può notare un qualcosa che va al di là del semplice amore e della semplice fedeltà. Abbiamo il rispetto, l'amore incondizionato, la speranza e la fiducia. Partiamo un attimino a classificare il cane. Chiaramente il cane appartiene alla classe dei mammiferi, alla famiglia dei canidi, al genere canis e la specie canis lupus familiaris. Al genere canis appartengono i cani selvatici come i lupi, i coyotili, i sciacalli e i quon che hanno lo stesso numero cromosomico, cioè 78. Nel complesso i canidi si distinguono per la loro elevatissima capacità di adattamento ai più diversi ambienti. Parecchie specie sono altamente sviluppate i comportamenti sociali che permettono ad esempio di abbattere prede di grandi dimensioni. In questa foto vediamo un bellissimo esemplare di lupo appenninico scattato dal fotografo Graziano Capaccioli. Partiamo dall'evoluzione che ha avuto il cane nel corso del tempo. Innanzitutto l'evoluzione è un lento processo di trasformazione che interessa tutte le specie viventi, non solo il cane, basato su modificazioni genetiche che compaiono in modo casuale. Il processo evolutivo che ha portato il cane a essere canis lupus a canis lupus familiaris passa attraverso l'addomesticamento. Perché è stato scelto proprio il lupo? Perché si ritiene che branchi di lupi siano stati attratti dall'odore delle prede e si siano quindi avvicinate agli insediamenti umani di raccoglitori cacciatori. Quindi il lupo è stato scelto innanzitutto per competizione con gli uomini per le stesse risorse alimentari, per l'avvicinamento all'interesse reciproco, per l'osservazione delle tecniche di caccia del lupo e quindi l'aiuto involontario durante il raduno delle prede e soprattutto una funzione molto importante che è quella di protezione e quindi una funzione di sentinella in modo tale che riuscissero a proteggere gli accampamenti da altri predatori. Il cane è stato il primo animale addomesticato dall'uomo e si è evoluto insieme a lui. I vantaggi per l'uomo sono stati un maggior controllo del territorio, più tempo da dedicare per le attività artistiche, ludiche e creative, più tempo per il sonno, non dovevano fare più turni di guardia e quindi avevano più tempo per riposare perché non dovevano preoccuparsi del fatto che qualche animale o qualche soggetto indesiderato potesse intrufolarsi negli accampamenti, migliore ripartizione dei compiti e maggiore possibilità di sopravvivenza per bambini e anziani. Quindi il risultato è stato un'evoluzione più rapida per l'uomo. Il cane nell'antichità veniva rappresentato in moltissimi dipinti, mosaici, bassorilievi nei palazzi. Vediamo appunto dove. In Egitto ad esempio lo troviamo su pitture morali o bassorilievi e i levrieri figurano su affreschi in cui vengono rappresentate soprattutto scene di caccia e si ritrovano anche nei disegni che decorano le tombe. Certi cani ad esempio sono stati perfino mummificati insieme al loro padrone. I bassorilievi del palazzo di Assurbani Palinassiria mostrano dei cani che partecipano alla caccia e non esitano ad attaccare dei leoni. Nella parte est di Creta troviamo la dea della caccia Diana che veniva raffigurata su una pittura rupestre accompagnata dal suo cane. Il primo successo che veniva richiesto ad una giovane recluta al momento della sua iniziazione nel mondo dei guerrieri cretesi era infatti quello di portare della selvaggina. Ecco perché il cane costituiva per lui un prezioso aiuto in questo fondamentale compito. Tra i greci presso i quali il ruolo del cane era quello di cacciatore e di guardiano viene considerato per la prima volta anche come animale da compagnia. Comunque la sua caratteristica principale rimane sempre quella legata alla caccia e il termine greco kinegos disigna il cacciatore che significa letteralmente conduttore di cani. Infatti Senofonte nel suo trattato intitolato della caccia descrive lungamente l'allevamento e l'addestramento dei cani da caccia. Certe razze della Laconia, la legione dei Spartani erano rinomate per la loro velocità e per la loro efficacia. Lo stesso Aristotele disse che questi cani hanno contemporaneamente l'aspetto del cane e della volpe. Anche a Roma il cane è presente su monete, pitture murali e mosaici. Ricordiamo uno dei più celebri mosaici di Pompei dove un cane che abbaia legato alla catena della casa del suo padrone ebbe compassione per i visitatori troppo temerari o distratti e le avverte gentilmente con uno scritto esplicito che figura al centro del mosaico e cita questa espressione cave canem, cioè attenti al cane. Anche i galli utilizzarono i cani per la caccia e la difesa e tuttavia assegnarono loro anche delle funzioni più originali. Così certi cani venivano sacrificati nel corso delle cerimonie religiose e i loro resti sono presenti sui siti dei santuari. L'onore di essere votato agli dèi è pari a quello di accompagnare il proprio padrone nella sua tomba, come mostrano ad esempio le sepolture delle metropoli di Tartigni e Compiegne dove i resti dei cani sono associati a quelli dei cavalli come avviene spesso presso i popoli indoeuropei. Il cane era ritenuto utile come abbiamo visto appunto per la caccia che è una pratica di antichissima origine che crea un sodalizio tra cacciatore e cane e insieme giocano un ruolo di squadra con un ruolo ben preciso in modo tale da riuscire all'impresa di appunto catturare la preda. Il cane ha il compito di fiutare, scoprire stanale e inseguire gli animali selvatici e in base alla sua razza e alle sue attitudini vengono scelte prede diverse, quindi venivano scelte lepri, volpi, cervi, cinghiali, orsi e addirittura animali molto più grandi come ad esempio tigri, leoni ed elefanti. Come possiamo vedere dalle citazioni che ho messo in questa slide di Ovidio e Seneca ma anche dai trattati greci e latini sulla cinegetica, cioè l'arte della caccia, l'animale è addestrato a controllare il proprio istinto di predatore, impara a trattenere la selvaggina senza divorarla e quindi la consegna viva al cacciatore, chiaramente perché così il cacciatore poi dopo la può utilizzare. Quando venne meno la necessità di procurarsi cibo o pelli e inseguire, si inizia una nuova pratica che è quella di inseguire la preda a cavallo con una muta di cani di razza e quindi questo diventa una vera e propria prova di coraggio, un evento mondano, anche un passatempo piuttosto costoso riservato ai principi e agli aristocratici. L'importanza attribuita all'arte della caccia è testimoniata dalle numerose raffigurazioni delle opere dedicate proprio all'argomento, quindi oltre a Ovidio e Seneca abbiamo anche altri autori che parlano di scene di caccia nei loro trattati come Senofonte, Grazio, Ariano, Piano e Nemesiano e ci vengono anche dalle entusiasmanti descrizioni di cani intente alla ricerca della selvaggina o lanciati all'inseguimento di una preda. Senofonte osserva addirittura il sorriso dell'animale nel momento in cui distingue le tracce della preda, proprio nel suo trattato della caccia. Il cane veniva utilizzato anche come combattente e poi nei tempi più recenti anche come anti-esplosivo e come cane per ricercare le mine anti-uomo. I cani da guerra nell'antichità venivano utilizzati in branchi contro la fanteria e la cavalleria ed erano protetti da armature in cuoio e in alcuni casi avevano anche delle lamelle metalliche protettive, avevano funzione anti-uomo e praticamente attaccavano il nemico atterrandolo e poi sbranandolo. Erano esemplali chiaramente di grandi dimensioni in primis per sostenere il peso dell'armatura e poi venivano selezionati in base all'aggressività e all'insessibilità alle ferite. Chi ne fece maggior uso fu l'impero romano, l'impero persiano con decine di migliaia di esemplari provenienti anche dalle regioni più lontane. I greci li utilizzavano soprattutto nell'ambito di particolari reparti ristretti formati da un cane da guerra, un lanciatore di giavellotti e un arciere e un cavaliere. Cosa faceva il cane? Il cane attaccava il nemico e questo cosa doveva fare? Per difendersi dall'attacco del cane abbassava lo scudo per proteggersi le gambe, divenendo così facile bersaglio delle parti non più protette da parte delle frecce o dei giavellotti. Anche i cimbri avevano potenti e numerosi cani da guerra che misero in difficoltà i legionari romani nella battaglia di Vercelli. I cani più feroci furono probabilmente quelli spagnoli incrociati fra mastini e levrieri e utilizzati contro gli indios in America. addestrati in apposite basi e venivano alimentati addirittura con carne umana. Ai giorni nostri il concetto di cane, vissuto un po' come lo vivevano gli antichi, si è modificato e quindi abbiamo dei cani che oltre che essere dei compagni fedeli nelle nostre case sono anche cani che ci danno soddisfazione nel lavoro. Quindi abbiamo cani che praticano sport, cani prettamente dal lavoro e cani da pastore per la conduzione o la guardia del gregge. Le razze canine hanno avuto origine quando l'aiuto dell'uomo non è stato diretto a caso verso i cani che lo circondavano. Si è sentita l'esigenza di creare delle razze selezionate per fargli svolgere un compito preciso. Quindi avremo il cane ad esempio da pastore che saprà condurre il gregge e il cane da caccia che saprà inseguire e catturare una preda. Possiamo insegnare al cane da pastore a inseguire una preda e quindi fare il lavoro del cane da caccia? Sì, sicuramente lo farà meno bene rispetto a un cane da caccia. Si può insegnare un cane da caccia a condurre un gregge? Sì, è chiaro che lo farà molto meno bene rispetto a un cane da pastore. Quindi questi cani in base alla loro selezione hanno una conformazione fisica unica e proprio sono stati selezionati per eseguire un particolare compito. Questo processo di specializzazione inizia fin dal momento in cui l'uomo ha iniziato a domesticare i cani dai lupi, procedendo quindi attraverso la selezione a modificarne la forma, gli aspetti caratteriali per chiaramente adattarle alle sue necessità. Pertanto, prendendo come riferimento lo scopo per il quale è stata selezionata ciascuna razza in origine, potremmo osservare specifiche costruzioni che permettono di ottenere dai cani delle prestazioni piuttosto elevate. Nel 1755 Buffon stila la prima classificazione delle razze basate sulla morfologia, distinguendo nel suo trattato 30 razze, di cui 17 principali e 13 derivate per incrocio. Nel 1800 esplode la cinofilia e nel 1859 viene fatta la prima esposizione di cani da caccia. Il Kennel Club italiano, divenuto poi ENCI, Internazionale Cinofilia Italiana nel 1930, viene fondato nel 1881 e fu istituito il LOI, che è il libro delle origini italiano, che praticamente è il libro genealogico delle razze, dove vengono riscritti 69 soggetti. Nel 1873 in Inghilterra nasce il Kennel Club con lo scopo di regolamentare le mostre canine e attualmente l'ENCI riconosce oltre 400 razze suddivise in 10 gruppi. Quindi ogni gruppo è caratterizzato da un certo numero di razze che hanno delle caratteristiche simili. Ad esempio nel gruppo 1 abbiamo i cani da pastore e bovari, esclusi bovari svizzeri, e la loro caratteristica principale è quella della conduzione e della guardia degli armamenti. Nel gruppo 2 abbiamo i cani di tipo pincher, schnauzzer, molossoidi e bovari svizzeri, con attitudine principalmente da guardia, difesa personale, cani da presa e grandi guardiani degli armamenti. Il gruppo 3 è il gruppo dei terrier, con attitudini in caccia da seguita, tana, presa, ma anche da compagnia. Poi il gruppo 4 è il gruppo dei bassotti, con attitudini di caccia da seguita e caccia in tana. Il gruppo 5 è i cani di tipo spitz e di tipo primitivo, con attitudine di slitta, caccia e pastorizia. Proseguiamo col gruppo 6 con cani segugi e cani per pista di sangue, utilizzati per caccia da seguita e caccia alla selvaggina, e alcuni cani per pista di sangue vengono utilizzati anche nelle ricerche di persone scomparse e vengono definiti i famosi cani molecolari. Nel gruppo 7 abbiamo i cani da ferma, con attitudine alla caccia, principalmente la selvaggina di penna. Il gruppo 8 abbiamo i cani da riporto, cani da cerca e cani d'acqua e principalmente sono i retriever e gli spaniel. Nel gruppo 9 abbiamo principalmente tutti i cani da compagnia, come ad esempio il chihuahua, i molossoidi di piccola taglia e poi nel gruppo 10 abbiamo il grande gruppo dei levieri, con la loro attitudine che è la caccia da seguita. Nel 1882 alcuni gentiluomini, fra cui il conte Carlo Borromeo, decidono di dare vita a una società per il miglioramento delle razze canine in Italia. Quindi viene istituito il clan nel calab italiano, che all'inizio comprendeva 31 soci. Nasce quindi il libro delle origini italiane, come abbiamo visto prima, e il primo soggetto iscritto fu un bracco italiano di nome Falco, nato nel 1875. Oggi l'Inci è un'associazione di allevatori a carattere tecnico-economico e allo scopo di tutelare le razze canine riconosciute pure, migliorandone ed incrementandone l'allevamento, ma anche favorendone l'impiego e la valorizzazione sia finizio tecnici che sportivi. Abbiamo anche il cane utile per il loro istinto, quindi un cane che ha un istinto è difficile toglierlo perché questo istinto è innato e quindi abbiamo i cani conduttori, i cani adibiti alla custodia delle greggi, quindi i cani guardiani e poi appunto i cani da caccia. I cani adibiti alla custodia sono quelli che accompagnano il greggio ma non lo conducono in quanto hanno un elevato senso di protezione nei confronti del bestiame e mancano però gli stimoli necessari per la sua conduzione. A questo gruppo appartengono ad esempio il pastore Maremmano e il pastore abruzzese e sono cani molto forti e sicuri della propria forza ma mai aggressivi verso il bestiame. Sono attenti, vigili, maestosi e con un mantello di colore bianco per mimetizzarsi nel greggio ed essere quindi distinti dalle fiere in caso di lotta notturna. Invece i cani conduttori sono utilizzati per la guida del bestiame e instaurano con l'uomo un rapporto molto stretto, di grande collaborazione. Sono solitamente di mole media o medio piccola e strutturalmente sono cani molto leggeri, adatti a muoversi velocemente con impennate e scatti improvvisi. Sono morfologicamente molto variabili e abbiamo il pastore bergamasco, il pastore della Bri, il Puli, il Corgi, il Border Collie, il pastore australiano, sono tantissimi i cani che si occupano di conduzione del bestiame. Devono essere chiaramente cani attivi, pronti ad intervenire a primo fischio del proprietario, attenti al comando ma capaci anche di agire in modo autonomo. In presenza di animali giovani e di agnelli il loro intervento deve essere più dolce e controllato, sono attenti a tutto l'ambiente che gli circonda, ottimi guardiani e non permettono agli estranei di avvicinarsi al greggio senza l'autorizzazione del padrone. Mentre i cani da caccia si distinguono per le diverse abilità richieste dal tipo di caccia, dalla natura della selvaggina e dall'ambiente e quindi in base al tipo di preda che viene presa in considerazione avremo i cani da fermo per intercettare gli uccelli, i cani da cerca per intercettare la selvaggina di terra, i cani da riporto per intracciare e riportare la preda, i cani da tana per lo scovo e i cani da seguita per pedinare animali anche di grande taglia. Poi troviamo i cani socialmente utili per l'uomo, per la società e quindi in questo caso troviamo i cani da pet therapy, i cani guida e i cani poliziotto. Allora i cani da pet therapy è un cane che esegue interventi di tipo educativo, ricreativo, terapeutico e il suo obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita grazie alla presenza e all'interazione di un animale. Vengono utilizzati per persone con difficoltà di linguaggio, persone con diverse disabilità fisiche, persone con disturbi dello sviluppo come ad esempio l'autismo, sindrome di Down, paralisi, ritardi mentali, iperattività, deficit di attenzione, problemi anche di apprendimento. Il cane guida invece è un cane considerato da assistenza, ha il compito di aiutare le persone che hanno bisogno di assistenza, di integrarsi nella società e vengono addestrati per guidare le persone che devono superare degli ostacoli, quindi solitamente per persone affette da cecità e persone ipovedenti. Invece i cani poliziotto sono le unità cinofile e si intende chiaramente il binomio formato da un cane e dal suo conduttore. Solitamente vengono impiegati per indicare i binomio appartenenti alle forze di polizia o le forze armate e di soccorso. L'apice dell'impiego di questi cani è conciso con la Prima Guerra Mondiale quando venivano usati come funzioni da soma e traino per garantire il rifornimento delle postazioni più impervie, ma venivano utilizzati anche come assistenza sanitaria. Nella Seconda Guerra Mondiale gli Stati Uniti addestrarono circa 20.000 cani e ne mandarono almeno 2.000 al fronte. Esistono diversi tipi di unità cinofile, l'unità cinofile per servizi preventivi, detta anche unità cinofile da polizia oppure unità cinofile da pattuglia, che sono composti da un operatore di polizia e un cane addestrato a immobilizzare tramite il morso o la percussione in museruola soggetti molto pericolosi o dostili. Solitamente il cane è anche addestrato a ricercare e inseguire persone tramite traccia o cono di odore. Poi abbiamo le unità cinofile per attività di polizia giudiziaria, composte da un conduttore operatore di polizia ed un cane che è addestrato per scoprire le sostanze oggetto di ricerca per finalità di polizia giudiziaria, quali stupefacenti, resti umani, tracce di sangue o acceleranti di incendio. E infine abbiamo l'unità cinofila con capacità combat che oltre a riconoscere e a segnalare qualsiasi tipo di esplosivo e l'unità è addestrata al trasporto su qualsiasi mezzo militare, quindi dall'elisbarco all'elimbarco, al superamento di un corso d'acqua, a tecniche di movimento e combattimento, di sicurezza, vigilanza e di punti sensibili. Abbiamo anche i cani da soccorso, definiti da molti i cani eroi. Infatti spesso ci tirano via anche da situazioni piuttosto sgradevoli, anche se non sempre purtroppo riescono a tirare fuori persone in vita. Quindi abbiamo i cani da salvataggio in acqua che servono per aiutare le persone in difficoltà o che stanno annegando. Poi abbiamo i cani da macerie, qui vediamo un cane impegnato nella ricerca di persone, di superstiti, di sopravvisuti nella tragedia che è avvenuta presso il ponte Morandi, col crollo del ponte Morandi. E poi infine abbiamo i cani da valanga, cani che in montagna sono utili per aiutare e soccorrere le persone in difficoltà o persone che magari sono state sorprese proprio da una valanga. Infine volevo fare una panoramica sugli sport cinofili in modo tale che potessimo avere un qualcosa di, qualche conoscenza che su questo tipo di sport che esistono per i cani. Perché appunto non tutti hanno la possibilità di portare il proprio cane in un centro cinofilo o a lavorare con le pecore o non hanno un cane che è adatto per la caccia. E quindi diciamo che si è trovata queste scamotage per far comunque diventire il proprietario del cane praticando appunto questi sport. Quindi abbiamo il disc dog che è un sport dove il cane deve eseguire degli esercizi chiamati tricks insieme al proprio proprietario, al conduttore e poi deve prendere al volo questo disco chiamato frisbee. Poi nella seconda foto vediamo un cane impegnato nello slalom, un'attività, un ostacolo dell'agility che è un percorso a tempo dove il cane deve affrontare diversi ostacoli quali ad esempio salti, tubi, una ruota, la gomma, il salto lungo, il muro e deve farlo nel minor tempo possibile e con le minor penalità possibili. Infine per rimanere sugli sport di salto abbiamo il fly ball che è una staffetta a squadre. Praticamente il cane parte, deve affrontare quattro ostacoli molto bassi, andare su una pedana, schiacciare un pulsante dal quale esce una pallina, prenderla al volo, ritornare sui quattro salti e una volta terminato questo percorso può partire il secondo cane. Chiaramente in questo caso vince la squadra che termina per primo il percorso. Poi troviamo qui invece sport più controllati come ad esempio l'obedience, una disciplina molto bella ma anche molto difficile e rigida perché è una disciplina che prevede diversi tipi di esercizi di crescente difficoltà in base al livello dove il cane deve avere un ottimo controllo e il conduttore deve essere molto chiaro nei segnali perché non si potranno dare grandi aiuti al cane e quindi il cane dovrà essere molto attento a quello che gli dice il suo conduttore per eseguire nel modo corretto gli esercizi e senza incorrere in penalità. Nel secondo caso abbiamo l'utilità e difesa anche del mondioring però c'è una differenza dove avremo sia esercizi di obbedienza ma anche esercizi di attacco. A differenza del mondioring l'utilità e difesa prevede solo un attacco con la manica mentre il mondioring prevede un attacco su tutto il corpo del conduttore e infatti il conduttore è protetto da delle tute appositamente create per questo tipo di disciplina. In ultimo abbiamo la rally obedience che è sempre una disciplina di obbedienza infatti il cane deve rimanere vicino al suo conduttore guardarlo e anche qui deve ascoltare i suoi segnali perché ogni cartello appunto che vediamo posizionato per terra e dice quale esercizio dobbiamo fare eseguire al cane. Anche qui una prova tempo che deve essere eseguita nel minor tempo possibile e con la migliore precisione possibile per non incorrere in penalità. Infine abbiamo gli sport appunto di conduzione del bestiame quindi lo sheepdog e per i cani da slitta abbiamo lo sleddog che è appunto la corsa con i cani da slitta con il traino di una slitta e poi abbiamo uno sport nato recentemente molto interessante e molto divertente che è la dog dance dove il cane deve eseguire degli esercizi anche qui tricks molto simili a quelli del disc dog però a differenza del disc dog qui devono essere eseguiti a tempo di musica quindi ci deve essere molta coordinazione tra il conduttore e il suo cane ma anche molta precisione e pulizia per svolgere al meglio i vari esercizi. Io ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione spero che questo viaggio nel mondo del cane vi sia piaciuto e spero di riuscire a vedervi presto la prossima volta di fare questa conferenza in presenza e vi saluto tutti e a presto buona buona giornata a tutti